Questa è una rivoluzione del Tokyo Marui HK416D Next Generation RECOIL SHOCK AEG Il real steel Eclaren Coq 416D diventò molto popolare dopo le competizioni individuali di carbine per riportare il Colt M4 Il miglior miglioramento delle platform AR-15 era l'inclusione di un sistema di gas derivato dall'Eclaren Coq G36 Tokyo Marui ha fatto un'eccellente lavoro riproduzionando questo risultato con un rivoluzione di metallo, un blocciolo funzionale con sistema MTMAX, RECOIL e BLOWBACK Il Tokyo Marui HK416D dovrebbe arrivare con le tradizioni di Eclaren Coq Non ero uno dei suoi forti, quindi ho fatto il mio miglioramento per riportare le tradizioni di H&K con decali Questo stock è un po' di 6 posizioni aggiustabile stock con un blocciolo rivoluzionario Può essere un po' bambino, ma si trova molto confortamente sull'esterno e ha molto piccolo ruolo Ecco ho accesso alla batteria Il Tokyo Marui HK416D dovrebbe usare batterie dedicati, ma ho fatto un modificatore per usare 7.4V LiPo Il HK416 è una piattaforma Mbidextrous Selezionato, Mbidextrous, Selector Switch, Sling Mount e Charging Handle Il motore è una replica dell'Eclaren Coq è esclusivo dell'Eclaren Coq Assault Rifles Battle Grip Il motore dell'Eclaren Coq è un modificatore esclusivo dell'Eclaren Coq Il Rotary Op-up è un'eccellente parte dell'Eclaren Coq Il motore dell'Eclaren Coq Il Tocchio Marui HK416D dovrebbe usare un magliettivo di 30 o 70 ronde di Mbidextrous A esteticamente, questa piattaforma è un ottimo pezzo di lavoro con incredibili finiti e dettagli Il peso è molto ben equilibrato e potrà avere una sensazione solida inoltre Quando l'ultimo B.B. è tirato, il sistema Valkage si tratta per evitare la scuola di tirare Il sistema Valkage funziona molto bene sui cicli di tirare e è una buona cosa per avere Il rinforzo, inoltre essere solo milde, dà un'esperienza più immersiva Il Tocchio Marui HK416D Il Tocchio Marui HK416D si tratta di crono a circa l'esperienza di GPS per un Tocchio Marui il Tocchio Marui HK416D Per il Tocchio Marui HK416D L'attitudine di Tocchio Marui HK416D non resta a farlo assolutamente con una grande precisione e un gruppo Grazie per aver guardato questa recensione! Non dimenticate di like, commentare e di iscrivervi al nostro canale! Per più contenuti clicca sui link interattivi! Vi vediamo la prossima volta e stai sicuro!